Curiosità Svezia. Tantissimi McDonald's. È fuori di dubbio che quando si sente parlare di Svezia, il premio vada alla sua capitale, alla sua cucina e ovviamente ai suoi paesaggi. Per quanto riguarda il settore culinario, la Svezia è conosciuta perché pur essendo un paese dalle moltiplici ricette tipiche, è anche quello in cui è presente il maggior numero di McDonald's. In proporzione al numero di abitanti, ve ne sono ben 36.000.